andiamo andiamo ma che stile grazie volevo fare il furbo allungarla ma no volevo allungarla su lì 8 volevo fare il furbo ma non mi è riuscita non mi è riuscita bravo è quello che volevo fare anch'io quello che volevo fare anch'io pagano il lacetto mi raccomando dove metto giù il primo metto giù il lacetto se no mi tocca darti una cosa da 30 minuti allora ancora tu premidi un po' fate spaccarlo lo sai che ci vuole almeno da mezz'ora da tre quarti d'ora bravo bravo e adesso adesso la e io voglio tagliarla solo che non mi ha tenuto e io voglio tagliarla e io voglio tagliarla cioè della serie poteva al contrario adesso la zona se è giusta si fa anche il contrario ma se saltano ma te non saltiamo qua si aprono il contrario adesso la fa lui dopo il contrario ragazzi io mi appoggio vedo che abbiamo lo stesso vizio no no buona vita bastarda una bastarda beh alla fine è solo quello no di là sbagliato è solo lì è sempre solo quello il problema è solo lì è solo lì è solo lì appoggiati anche voi ci stanno provando a saltare è il doppio no? è il doppio se sbagli tu cosa sto dicendo? no no io mi appoggio infatti comunque è giusta ha già provato qua gli è andata male un pezzo coppa non è bello al contrario al contrario non è bello è giusto anche il contrario no se non c'era quel sasso là guarda l'ottore vai lì 20 secondi cosa fai? devi fare il doppio o la tieni su vai che adesso prova lui chi la tiene? il tronco vicino è quello che ti sto dicendo se sbagli paghi oh volé volé tiralo su bravo bravo ma non ti creare problemi quando non ci sono